E li avete comprese bene quando diventano verità liberatrice, quando ciò che conosciute arricchisce interiormente, illumina l'intelletto, rafforza la volontà, cura le infermità, riscalda la tiepidezza, avvolucisce l'aridità. Quando è spontaneità e naturalezza, manca rispetto degli altri, è semplicità, manca intelligente consapevolezza, è serenità, ma non insensibilità, è mancanza di incertezza, di indecisione, ma non è incoscienza. Quando è forza più che consolazione, è costanza più che entusiasmo, è certezza più che speranza, è comprensione più che accettazione, è creatività più che conoscenza. Pace a tutti, creature nostre. Solve, vi diciamo non giudicate, perché degli altri voi non vedete la realtà del loro essere, ma vedete quello che appare. ciò significa che vedete al massimo quello che gli altri mostrano di sé. Non solo, ma anche l'immagine che gli altri danno di sé stessi può essere da voi distorta, può essere esaltata o peggiorata, così che quando vi innamorate di qualcuno, vi innamorate di una immagine. Chissà se il vostro innamoramento potrebbe persistere, se chi amate conosceste non l'immagine, ma la realtà. Il fatto che gli altri rimostrano solo un'immagine e non la realtà, è talmente vero che si può dire che sia una pura coincidenza che talvolta le intenzioni degli altri corrispondano alle intenzioni che voi credete che gli altri abbiano. Difatti, il più delle volte, invece, voi attribuite agli altri intenzioni che gli altri non hanno, oppure non vedete le loro vere intenzioni. E su quello che voi pensate che gli altri siano, sull'immagine che di essi vi siete fatte, costruite la vostra relazione con loro, il vostro mondo. Non crediate che quello che io dico si riferisca a casi o persone limite, è cosa di tutti e di tutti i giorni. Quindi gli altri non sono importanti per voi a condizione che riusciate a cogliere la loro vera realtà, il loro vero essere, ma sono importanti per le reazioni che in voi riescono a suscitare e le suscitano solo se voi siete sensibili a quegli stimoli che essi volontariamente o involontariamente vi inviano. Perciò, gli altri sono per voi come una sorta di specchio. Essi possono su voi solo ciò che voi permettete che possano, ma non permettere nel senso di concedere, cioè come colui che ha un'autorità e che accondiscende a qualche richiesta, ma permettere nel senso di lasciare che gli altri abbiano presa su voi, essere in loro balia, che poi invece spesso è essere in balia della propria immaginazione e della propria debolezza.